Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. In A11 per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, stanotte in orario 22.6 resterà chiusa l'entrata di Prato Est in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le auto in occasione della pulizia delle strade. No, multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!